Ciao, buongiorno, anch'io a casa. Come si conviene in questi giorni? Lo so, una rottura di scatole, uno magari non sa che fare, magari si mangia troppo perché diceva bene la noia, assaggio quello, assaggio quell'altro, si ingrassa. Vabbè dai poi abbiamo tempo per dimagrire quando arriva l'estate. Lo so, ci sono i complottisti, quelli che dicono che è tutto esagerato, che ci sono dietro chissà che cose, ci sono dei numeri reali che dicono, per fortuna, che le influenze degli anni passati sono state molto più gravi dal punto di vista dei decessi e così via, però attiriamoci a questa serie di piccole indicazioni che ci vengono date e così stiamo tutti più tranquilli. Tanto abbiamo tutti delle cose da fare dentro casa, non so, io ho una serie di cassetti da rimettere a posto, la cantina, ce l'avete una cantina a sistema, la mia è un dramma, per cui ne approfitto, rimetto a posto tutto quanto, le cose in garage, la cantina, i cassetti leggo, finalmente posso leggere di giorno e non soltanto di notte, che è la mia abitudine, perché sennò non ho tempo per leggere libri, mi guardo vecchi film che ho voglia di vedere, un sacco di cose che ho registrato e che non ho mai avuto tempo di rivedere, mi rilasso fondamentalmente, sono meno stressato dal lavoro, dalla fatica, dal dover girare per Roma col traffico e così via, e approfitto di questi giorni che tanto saranno pochi, perché poi tutto andrà a posto, siamo tutti bravi e tutto si risolverà in modo migliore, ok? Dai ragazzi, un abbraccio a tutti da lontano, ovviamente prima di darcelo poi effettivamente e fisicamente fra un po' di tempo. Ciao a tutti, ciao!